allora siamo vi con i ragazzi della scimmia che chiaramente hanno molto tempo da perdere perché è la terza volta che vengono vi quindi evidentemente sono innamorati di me non di quello che dico se non sarebbero dei pazzi ma comunque di me e quindi questa volta siamo venuti senza dirmi un'emerita minchia mi hanno detto perché si parla un po dei film più belli secondo te del decennio 2010 2019 visto che poi è uscito su tutti l'hanno fatta questa classifica io ero l'unico stronzo non la volevo fa perché non me ne frega una sega del classifico lo dio subito perché le classifiche sono talmente soggettive sono talmente utili solo a se stessi siano per avere il cazzo un po più grosso di quello che ci sa c'è a guarda messo un bravo con la classifica così la gente dice ma i gusti che poi magari metà di della gente per casi che mancola visti che io quindi faccio le classifica come un gioco per me che per me è quello c'è vale il tempo che trova c'è niente però magari uno può di ciò ho visto anche io piace anche a me capisco un po come dai voti no li do 8 e cazzo li dai 8 di mio mail firme e ho da 8 e da 8 e quanto vale per te 8 quanto vale per me è sempre no non so se avete presente quest'idea delle stelline ognuno c'ha una scala di valore diversa quindi per me 10 nel cinema ce ne sarà 100 e quindi quando ve le fanno con tutti 10 e aspetta quindi anche questa classifica pigliatela per quello che ho siccome c'ho la memoria di un bradipo e ho una certa e c'ho anche un certo dolorino alla schiena ma siccome gentilmente questi bravi giovani che non sono come me ma giovani maledetti loro mi hanno portato la lista dei migliori dei peggiori che ho fatto dal 2012 in poi circa qui nel 2010 sì io non mi ricordo un granché però mi ricordo che andai a vedere la donna che canta del 2010 era un film imperdibile quindi ce lo metto nel 2010 poi sono usciti un paio di inediti che io fortunatamente ho visto dei festival quindi io lo commento uscissero come il cold fish di sion sono che va assolutamente nella mia classifica dei migliori se dovesse esistere una classifica di questo seconda parte del ventunesimo secolo e seconda decade via diciamo degli anni 2000 e ci va anche i so the devil di kim jong-won che ho avuto la fortuna di monografare diciamo così e la fortuna di conoscere corean film festival infatti faccio averci fatto proprio due parole perché le altre 15 ne io capivo lui ne lui capiva me quindi è stato veramente delirante c'erano anche i ragazzi della scimmia corean quindi quindi diciamo che ce n'è un bel po' come ho detto nel 2010 poi uscì faust di sokuro che per me è meraviglioso nel 2011 uscì il cavallo di torino mi pare di beratar quello bisogna nominarlo per forza io non riesco a far 10 film come carriera del cinema che fanno guappi in me tanto i pixel per primo si tirava il cazzo tutto e poi ci metta nanni moretti che secondo me mia madre forse nei film più brutti e va lasciamo chiuso se no mi diano le sei più te del carriere del cinema no assolutamente siccome anche loro fanno questo giochino di merda cioè questo perché questa classifica ciò l'ho letto e sono rimasto un po' basito perché il film di bruno dumont a vederlo magari potrei dirlo anch'io il problema è che di 10 film vattene l'ho visti una serie tv e una nanni moretti non sono molto d'accordo ma io non sono mai d'accordo con le classifiche degli altri come spero voi non siate d'accordo con questa mia classifica perché il bello è proprio non capiteci una sega evidentemente ma partiamo un po' io vado a giro perché mi avete portato questa roba vi quindi vado un po' a giro e vedo tra i migliori del ventesimo secolo ma per me ce ne va la fine ne sono 50 comunque fate voi cioè snowpiercer di bon john secondo me se non ci va è malattia mentale frank assolutamente altro film straordinario terme roma è il genio puro del giappone solo gli amanti sopravvivono per forza world for wall street che te lo dico a fare per l'appunto maps of the star father and son meraviglioso wolf children visto che ci siamo e questo sono già i migliori di un'annata e sono già una classifica quindi praticamente ho fatto i danni proprio che fra i peggiori c'è veramente della merda volete anche i peggiori perché no perché 300 l'alba di un impero non è tra i peggiori del ventunesimo secolo e tra i peggiori di tutti i secoli del mondo a mesi spiderman 2 altra andata di merda draculant hold quello che nessuno voleva sentirsi raccontato lo hanno raccontato di merda fuga di cervelli ma che annatela stosa vi hai frankenstein che cazzo smiley transformer 4 questa è tutta spazzatura quindi va benissimo vabbè operazione vacanze vedo notevole poi ma che cazzo c'era che stanno di ghost rider però c'era invece il meglio e il peggio mescolato cosmopolis di kramer perché io ce le metterei tutti quindi quello va bene per come piace a me il cinema perché poi bisogna stare attenti perché queste cose sono molto soggettive capito quindi sto leggendo e per me uca brady scorsese a ogni costo c'è un capolavoro incredibile take shelter uno dei film più belli la ballata d'amore dell'odio di alex d'anglesi assolutamente poi scendiamo un po vi ho li motors di carax è un capolavoro in mani per di tutti i tempi quindi vabbè e vorrei anche vedere è uno di quelli che ero d'accordo le streghe di saleme per forza vedo che qui c'è della bella merda però qui ci buttiamo appunto world world z dell'uomo d'acciaio avete perfettamente azzeccato qual era la merda della merda della merda di quell'anno beh c'è left behind che uno dei film più brutti della storia veramente anche quest'annata vi vedo che quindi sto andando avanti babadoc per me è un film indimenticabile poi ha portato avanti poi sappiatelo a un certo punto io sono molto di genere a me piace tantissimo il film d'autore ma io nelle mie classifiche preferisco sempre buttare il genere perché sono convinto che con il genere la gente va al cinema e l'avvicina il cinema d'autore col cinema d'autore la gente scappa perché da chito li fai vedere bella tar corre se invece ce l'avvicini piano piano con un vendors con una cosa già d'autore ma più offruibile poi a quel punto il cavallo lo butti giù se io da uno che guarda solo Avengers il cavallo di torino mi guarda che cazzo mi hai dato capito invece se questo qui gli do della roba un po più come come vediamo qui anche holy motors stesso uno è talmente folle noi in macchina prima ci scannavamo sull'horror tra It Follows, The Witch e Babadoc beh fra questi qui secondo me vince The Witch e poi secondo It Follows e terzo Babadoc non perché non sia più bello ma è un po' più prevedibile It Follows è geniale, è incredibile ma per me The Witch è Bergman, altro pianeta non ho sperato spero per lui che non lo faccia spero proprio che questa idea malsana gli esca dal cervello perché ha già fatto non ho sperato mi pare benino Murnau e mi pare che Herzog abbia fatto un remake che è quasi meglio cioè mi pare abbia fatto benino anche lui io a Herzog al miglior Herzog e al miglior Murnau eviterei di avvicinarmi non riesce la storia è quella ha rotto un po' i coglioni non ho sperato ci avete rotto il cazzo anche lui però mi rendo conto alla gente vuol fare un po' il film che ama da ragazzo tutte queste cose qui come Peter Jackson con King Kong solo che King Kong veniva da due remake di merda allora è bene fare un remake giusto ma qui non so bene beh secondo me Ex Machina ce lo metto perché ha tirato fuori Alex Garland da seconda la sceneggiatura quindi è adorabile è fuori road per forza fuori road a nostro parere se ne parlava prima forse è il meglio della decade no il meglio no perché secondo me Holy Motors se lo mangia però fra i film proprio così è in capolavori in mane cioè c'ha delle bu è talmente bello che non saprei qui vedo ci butta anche qualche indipendente italiano tipo Across the River per me è bellissimo di Bianchini ad esempio che non l'ha cagato nessuno Cold in July di John Mikkel è una cosa storica secondo me quindi qui va qui poi c'è poca roba in realtà che di roba bella c'è vizio di forma poi Thomas Anderson tutto ci va messo tra i migliori di tutti gli anni di tutti i decenni di tutti i cosi poi diamo un po' qui The Assassin quello cinese assolutamente tra i migliori intoccabile come la canzone del mare e mare intoccabile come The Hateful Eight assolutamente It Follows per forza The Neon Demon a tutti i costi io ci metto Warcraft perché è geniale nessuno streccato Zootropolis è forse il migliore animazione Disney degli ultimi dieci anni nel peggio vedo che c'è tanta di quella roba che io non ho scatenato mi pare che possa battere anche quasi su side squad quasi e no ma però c'è 50 sbavature di nero che cazzo è una merda Batman contro Superman quanta roba di merda esce qui continuiamo Blade Runner 2049 secondo me lo è come lo è The Last Jedi in culo a che dice che è una merda e si guarda il mandolino lì il mandarino come cazzo si chiama la serie del cazzo lì dicendo che è grande il mandarino lì convinti che siano veramente meglio di The Last Jedi di questa gente lì dovrebbe continuare a guardare 300 che è il film più brutto del ventesimo secolo lo dico così perché Snyder è il peggior del ventesimo secolo se on do Bay poi in Ispel e poi a ruota tutti questi shooter di merda che dovrebbero tutti andare a lavorare però Snyder è il peggiore per il semplice fatto che Bay ha una cosa che bisogna dargli che è orribile però è rarissimo che i suoi film si prendano sul serio non so come farti capire alla fine sono bottoni veri cioè Snyder è convinto veramente di raccontare qualcosa e l'unico se racconta è la merda beh io ho il problema di convinto di saper girare il cinema e non di garbaicco che quindi poteva benissimo fare gli spot e non romperci più i coglioni perché poi in effetti se ti guardi l'uomo d'acciaio che è veramente terribile e poi magari guardi The Rock è un pochino meglio forse è The Rock non lo so però per me insomma è come decidere se voglio un po' di merda sciolta o un po' di merda dura per la dura probabilmente è Snyder e quella sciolta con l'annuncio ne bevi un po' di più è Bay non lo so però è sempre merda ecco insomma farci il dolce con la merda e farmelo sembrare un dolce ecco quello magari è Bay Snyder ti dà direttamente le cucchiate di merda e la gente è diventata coprofila quindi va benissimo così Guardiano della Galassia volume 2 ce lo metto Patterson ce lo metto insieme solo gli amanti sopravvivono e insieme ai morti non muoiono quindi per me Jarmusch insieme a Gimme Danger ce ne ha 4 cioè per me qualunque cosa tocca diventa oro ok poi vi abbiamo Nemesis e ce lo metto perché è Walter Hill e bisogna solo volerli bene Whisper in Stars non so capolavoro in mane scappa per me un capolavoro tutta questa roba è imperdibile per me e poi ci sono quelli perdibili tipo la mummia quello con con Tom Cruise dove la mummia è lui in tutti i sensi poi c'è Geostorm quello che costruiscono un affare per non fare la tempesta che fa la tempesta più grossa del mondo il genio del genio dimmi io ho una passione un geek guardo i film post apocalittici perché mi piace quando vedo distruggere tutto quella che a me è l'unico film di merda post apocalittici non distruggi un cazzo che cazzo no ma poi l'hai fatta te torna giù torna su torna giù è rotto il cazzo la torre nera porca troia la torre nera è il male assoluto io non lo so come fa dire Stephen King che è uno dei suoi film preferiti ha già dice che Shining è uno dei suoi film che li fa più cacare ho capito perché la torre nera gli piace un po' come gli ultimi due hit tra i peggiori del secolo cioè King lo stanno massacrando mi sta rivenendo voglia di vedere me garris fate un po' voi fatevo Fallen Fallen ha fatto risalire tutte le quotazioni di un qualsiasi young adult al mondo cioè se Shadow Hunter credevo facesse stracà no questi vi Fallen e Beastly sono i due che sono riusciti a far diventare secondo me i film tratti dalla Myers Twilight è praticamente grandissimo cinema cioè perché se uno guarda Fallen e dopo mette Twilight li si è mai di vedere Orson Welles e fai cos'è successo quindi siamo a livelli incredibili il ritorno di Xander Cage era meglio se non tornava mi pare abbastanza chiaro veramente ma merda Infinity War e Endgame sono proprio la spazzatura di questi anni e il fatto che la critica li tratti anche bene è proprio il sintomo della spazzatura che ormai più che da bidoni esce dai cervelli e dall'orecchio della gente 50 sfumature di rosso chiude un cerchio più un triangolo perché sono tre e torna all'inizio cioè fai il circolo della merda per tornare tripla merda quindi che si può fare quando faceva K il primo questo fa tre volte K ecco fatto mamma mia ci risiamo anche questo parla il titolo quando il titolo è mamma mia ci risiamo a Livorno è come vai borda sono cascato quando incontri uno che crede di essere amico tuo e ha voglia di parlare te lo odi e non glielo puoi dire perché sei buono e lo vedi dall'altra parte della strada e fai mamma mia ci risiamo e fai fede bello e ti inizia a parlare di avalli di cani che a me non me ne frega un cazzo di gattini sul cellulare e più o meno è mamma mia ci risiamo penso l'abbiano fatto con questa cosa qui Natale da chef poi hereditary per forza detroit per forza gli ultimi geni eccolo qui dogman assolutamente telma assolutamente poi non ci ho messo perché non mi ricordo se è del 21esimo comunque io ci butto chi lista ve lo metto lì da noi di Ben Wheatley da noi è uscito lì se comunque potete ricordatevi il nome guardatevi un po' tutto anche Free Fire tutto ve lo fa tanta roba buona allora guardiamo l'isola dei cani magnifica ma così come era magnifico Gran Butta del Sto Del quindi sono quasi i registi a consigliare il film è nascosto come fai con Paul Thomas Anderson cioè il Petroliere è il film forse più bello per me degli anni del 21esimo secolo sono una marea ma quanti cazzi Blanksman ha venne sacrificio il cervo sacro l'uomo che uccise Don Quixote questi sono più o meno non so fino a dove sono arrivato ma sono più o meno fino a ora comunque ne abbiamo dati un po' alcuni mancheranno di una classifica leggo di quest'anno vi do un'anticipazione di almeno qualcuno che non ho visto quest'anno l'altra insomma roba come la casa di Jack va di dirittone essendo un capolavoro così come Vince Sommer ci rotola sopra così come ci si spiace di schiena la favorita così come ci va rifiniti quest'anno per forza se l'avresti visto anche da Irishman ce lo metto sulla fiducia con Scorsese per me Scorsese ci va sempre la fiducia c'è meraviglioso Parasite un film della bellezza di Bong Joon incredibile anche se è del 2016 da noi è uscito quest'anno quindi anche Mademoiselle mi ha colpito parecchio ad Astra un film che non ha cagato nessuno perché secondo me era eccellente i figli del fiume giallo altro film cinese straordinario a Taxi Driver altro film coreano Splendo quindi quest'anno ci saranno un bel po' di horror interessanti e nel mio meglio e nel mio peggio siccome saranno 40 belli e 40 brutti più o meno come tutti gli anni sono andati a aumentare quindi nei 40 belli non sono per forza 40 capolavori magari ne uscisse 40 all'anno di capolavori per me capolavori ne esce due all'anno poi tutti gli altri lo faccio io faccio capire anche come faccio il meglio e il peggio per capire come nascono le classifiche magari ho questo io che lo faccio da questo magari ho visto sì che cacchio ne so Asbury Park l'elezione rock and roll mi è piaciuto magari è anche più bello di quello che posso metterci io ah c'era una volta da Hollywood inutile che lo dica Barming altro film coreano che ho premiato poi c'è Venuti a Marven c'è tanti però per esempio mi è venuti a Marven qui lo trattano male per me invece è un grandissimo film e col cazzo e l'ho preferito magari a metterci la bomba nucleare da quattro ore serba che mi è piaciuto tipo Cold War perché sono convinto che un certo tipo di cinema così autoriale abbia bisogno di un trasporto maggiore di un meglio e peggio non so come fare capire cioè il meglio e il peggio deve essere quello che è davvero meglio e il peggio per me a livello pratico questo non vuol dire che è il miglior film ci sarà qualcuno che mi metterà nel suo meglio Rambo First Blood che è brutto probabilmente lo sa che è un film mediocre ma per lui è il miglior film dell'anno per quello che dico che le classifiche sono molto relative veramente soggettive per quello che dico il mio meglio e il peggio è veramente soggettivo e tutte le volte devo rispondervi perché come farò tutto questo video perché ci ha messo questo e che ci ha stovellato e che mi hanno detto fanno i 5-10 non ho detto di meglio 30 e di peggio 25 quindi vi ho rifatto un meglio e peggio alla scimmia pensa così a cazzo di cane l'ho fatto anche volentieri però leggendo e poi mi gira il cazzo perché ce n'è altri che erano bellissimi Dark Knight The Void Tonya Big Fish and Begonia sono tutti film insomma per me i meglio che ho messo sono i meglio di questi 10 anni che sono 300 film circa e dovete vedere tutti e sono il meglio di questi anni se non l'avrei messi lì Twin Peaks se non ce lo metto perché è una serie tv è inutile dire cosa ti garba di più al cinema di questi anni e fa una classifica con Twin Peaks o fai una classifica generale come fanno questi qui anche di film tv alla fine cosa hai preferito nell'annata in tutto cinematografica video io però mi intendo di cinema non mi intendo di serie tv vedendone talmente poche non ho nemmeno idea di quali sono quelle belle veramente quindi direi una cazzata anche a di Twin Peaks perché magari poi me ne garberebbe di più un'altra che ne so cioè questa cosa che siccome Lynch mi deve garbare a tutti i costi è assurda però vabbè quindi che vi posso dire se poi devo decidere veramente tra questi come ho detto diventa dura diventa dura perché sono dieci anni sono almeno tre capolavori l'anno sono già 30 belli per me che devi per forza vedere e riusci a fare qual è il migliore il primo non ce la fa vi posso dire che probabilmente il film più brutto che ho visto ma veramente che mi ha veramente deflagrato è Super Banzi di Natale perché non è nemmeno un film cioè vedere una osa che mette insieme i spezzoni di alcuni dei film più brutti che la storia del cinema italiano degli anni 80 in poi abbia messo e che sia stato anche ben valutato e messo tra i migliori film dell'anno e anche idolatrato da molti critici che fanno video o non video io rimango basito e rimango della mia idea secondo me i film più brutti di questi ventunesimi secoli tutto anche la prima parte sono Avengers Endgame Infinity War e Super Vacanze di Natale che sono il solito pubblico che sono il solito livello di intelligenza e anche il solito livello di film perché se voi non avete visto altri 24 film Infinity War e Avengers non ci capite un cazzo e Super Vacanze di Natale non ci capite un cazzo alla base perché è un patchwork come manco Totò nel 62 quindi fate un po' come vi pare questa era la mia classifica del meglio e del peggio del ventunesimo secolo non è risultata tale più o meno perché sono andato a cazzo di cane però avete qualcosa da vedere se non l'avete visto e avete qualcosa da non vedere se non l'avete visto nemmeno quello o al limite da vedere per farci quattro risate sia chiaro come vedete non è che ci vado a mettere film che costano due lire o dell'asylum perché non me ne frega un cazzo di dire che Sharknado è un troiaio quello lo lascio ai poveracci che lo fanno su internet per agguantare visualizzazioni o evito perché ho una certa età quasi del tutto morta con questo video alla fine e con la collaborazione con questi due qua ma è d'altra parte e questi mi mandano e io con questi devo lavorare ora ce n'è anche un altro oggi quindi il terzo se non è venuta grazie grazie alla e grazie al cazzo comunque detto questo ho le muse ma siete in tre in siete sette un micro di tanto ma va bene lo stesso ci metto anche la settima muse del grande balagherò tra i migliori film degli ultimi anni sono me dopo The Witch in quelle che sarà detto It Follows ci butto anche la settima musa che è un capolavoro che forse prima o poi qualcuno riuscirà a capire che è quasi ai livelli di l'inferno di argento o al di là di Fulci cinema ortodiano completamente folle che sembra così semplice e lineare che nasconde di tutto quindi se dovessi dire comunque un horror ecco facciamo così mi viene più facile un horror da vedere assolutamente The Witch e lui ciao e lui dimmi eh allora un abbraccio intanto all'apo Matteo Federico che sono venuti qui a fare un video con me e anche una videoconferenza quindi grazie mille per la scimmia pensa punto com che ringrazio in massa ringrazio anche a Maria Celeste che purtroppo non è potuta venire qui e insomma grazie a tutti per seguire i miei video se li seguite se non li seguite molto meno grazie ma in ogni caso grazie ai ragazzi che seguono la pagina della scimmia pensa punto com perché ho notato che in molti mi apprezzano quindi io apprezzo voi ma detto questo comunque apprezzo il lavoro di chiunque lo faccia in maniera indipendente e pulita e senza avere diciamo così spinte o influssi esterni che li pongono a dire o a fare cose che non vogliono dire o fare appunto e sono le persone che odio di più cioè i falsi di merda quelli che ti dicono una cosa davanti e poi fanno un'altra come se accende una tricamera detto questo quindi che vi posso dire un augurio veramente non di Natale perché non me ne può fregare de meno però un augurio per un anno nuovo migliore del 2019 che peggio rivesto può andare sicché di fioro spero sia migliore un salutone veramente enorme comunque ripeto al di là degli scherzi a tutti gli elementi che stanno dietro la scimmia pensa è tutto lavoro e fate perché comunque è utile è intelligente e soprattutto un augurio veramente di un 2020 cinematografico fantastico che ci porti grandissime pellicole soprattutto in sala e soprattutto voi ragazzi vi prego chiaramente guardatevi quello che vi pare compito e tutto ma cercate di comprendere che la visione in sala è una visione collettiva quasi psicoanalitica una cosa molto bella e che quindi non dovete per forza lasciarla perdere diciamo così per la rete che ripeto nessuno forse mi ha capito io sono a favore del progresso sono un progressista ma il progresso vi ripeto è quando porta qualcosa al genere umano non quando le toglie se per voi è progresso aver sparato una bomba su Hiroshima per me non lo è chiaro qual è il discorso non sempre quello che inventi è per forza una cosa migliore da fare o da usare detto questo le cose potrebbero convivere e finisco con questo discorso moralista di merda potete benissimo andare al cinema e guardare i film sui streaming su canali Netflix Apple o cosa vi pare se non fate una cosa fate l'altra quindi vi prego andate in ponzala così uno come me magari finché un muore continuerà a verci il cinema e poi non so altra cosa dirvi vi posso dire solo che De Livorno perdesse a Mad Max che è uno dei film più belli del mondo che questi ragazzi si fanno un culo senza praticamente prendere una lira e che prima o poi gli ruberò il bel microfonino rode che vedo lì sopra perché mi sembra molto carino e meno ingombrante di quelli che ho io che sono lunghi che paiano vibratori ecco tutto lì non ho altro da dirvi che capitava lì nel 2020 tanto cinema tanti concerti andate a vedere tanti musei trombate finché non svenite e mangiate a goderne ecco godete della vita ricordando però di non essere donisti di merda ma nel godervi voi la vostra vita fatela godere un po' anche agli altri perché così vi sentirete personcine migliori ecco vedi lo scrooge che mi è morto sembra quasi un messaggio quasi natalizio ma non lo è l'unico messaggio che è quello continuate a seguire la scimmia perché ci so io a volte e perché fanno cose anche interessanti e soprattutto continuatevi prego ad amare il cinema come sala perché io se no mi levate qualcosina ed è veramente una cattiveria in più il mio meglio e il peggio del 2019 sta per uscire se volete andare a vedere sul canale oggi è uscito bene per me se no male per voi questo è chiaro comunque insomma un saluto a tutti quelli che mi stanno seguendo ma soprattutto a tutte quelle che mi stanno seguendo buona Ugo da Livorno è tutto